La conferma è arrivata dall'analisi effettuate nei laboratori dell'Istituto Zoo Profilattico delle Venezia di Legnaro, nel Padovano, il centro preposto ad analizzare gli alimenti. Nelle confezioni di lasagne prelevate da un supermercato di Verona, una partita con scadenza a 30 marzo, sono state trovate tracce di carne equina. Il ragù, che notoriamente dovrebbe essere a base di carne bovina, conterrebbe invece carne di cavallo. Come già appurato per il ripieno di alcuni tortellini, ed ora sembra pure per le polpette distribuite nei punti vendita di Ikea in Italia. Le lasagne prelevate a Verona sono prodotte da un'azienda alimentare di Somma Campagna, l'Eurochef Italia, azienda specializzata in piatti pronti. Alcune confezioni campione erano state prelevate dai carabinieri del Nasse di Padova, seguendo le disposizioni del piano di monitoraggio disposto dal Ministero della Salute. L'irregolarità sarebbe quella di non aver indicato nelle etichette tra gli ingredienti l'utilizzo di carne equina. La società veronese avrebbe prodotto e confezionato gli alimenti utilizzando carne in blocchi congelati da 20 kg, prodotti da un'azienda di Sona.